Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale, io sono Andrea, io sono Anita e come sempre questo è Curiosando Lanzarote Bene ragazzi, una bellissima notizia per quanto riguarda me è che ieri ho avuto la mia seconda dose di vaccino Oggi sono un po' un pochino diciamo febbricitante, ho un po' di sintomi della febbre o un po' di mal al braccio e speriamo che non vadano peggiorando questi sintomi Anche perché domani tocca a me, quindi speriamo di non essere entrambi un po' così perché se no vabbè tu l'hai fatto per prima quindi toccherà a te fare le faccende di casa Bene allora, oggi siamo andati a Costa Teghise, il video è una parte Playa del Caviglio, l'altra parte è la Caletta del Re ma non aggiungo altro, guardatevi il video Ah e mi raccomando eh, vi aspettiamo dopo il video Grazie a tutti 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 Grazie a tutti